Ciao ragazze, oggi non mi vedrete perché ho spostato come potete vedere tutte le cose che utilizzo per decorare l'agenda sul letto perché qua c'è una luce un po' migliore e adesso vedrò di farvi vedere un po' le cose che utilizzo per la decorazione e in particolare volevo farvi vedere anche un po' i miei washi tape e alcuni adesivi che mi sono arrivati proprio adesso allora inizio questi qua sono i pennarelli che utilizzo per colorare e il barattolino l'ho decorato io sempre con i washi, questi qua di carta e questo invece di stoffa sono i classichi pennarelli giotto poi altre cose che utilizzo sono queste che ho in questo barattolino dell'IKEA ci sono tutti gli evidenziatori, le forbici, questi pennarelli qui di Tiger e un po' di cose così random però considerate comunque altre cose che però non vi faccio vedere adesso un po' perché ce l'ho nell'altra casa e un po' perché insomma sono, cioè non sono poi così particolari queste sono invece le penne che utilizzo quelle colorate e queste le ho comprate all'Eurospin hanno questa punta fatta così piccolina hanno un... non c'è scritto qui il diametro dovrebbe essere scritto proprio sulla stuccetto questo qui che era in dotazione sono 12 e hanno una punta conica di 0,4 mm poi in questa che è... cioè questa specie di cartella dove in realtà però c'era Glamour il giornale ho messo tutte le cose, i giornali che possono... dove posso ritagliare qualcosa ad esempio questi di Lamondadori e poi le varie cose che ho stampato io alcune da lasciare in bianco e nero altri da colorare qua ci sono vari adesivi cioè no adesivi perché io non ho la carta per stampare gli adesivi comunque sono tutte le cose che ho trovato su internet qua un altro di quei giornali anche alcune cartoline che casomai mi piacevano le conservo qui che mi possono essere utili alcune cose che ho già ritagliato altri giornali i giornali di Tiger che ci si trova sempre qualcosa di carino e quindi li tengo tutti qua e poi quando ho tempo li ritaglio li inserisco nell'agenda questo invece è il classico portapostito che si inserisce nel raccoglitore questi sono dei segnali ibridi quelli di plastica che non si dovrebbero rovinare facilmente e poi in questo porsellino così che mi si era anche rotto ho messo questo fiocchettino fucsia ci tengo dentro alcune cose allora ci tengo questi che sono alcune cose che ho già ritagliato però siccome sono piccoline per non farle rovinare le metto qui quindi depo poi questo è praticamente nigheddes ha fatto tutta una linea di prodotti per le mamme e i bambini ci sono tutti questi bambini carini allora lo tengo qui quando ho tempo lo ritaglio e poi c'è questa scatolina qua che in realtà già vi avevo fatto vedere in un altro video dove vi già cioè nel primo video dell'agenda e ci sono tutte queste carte che praticamente si staccano cioè sono già tagliate voi le potete staccare come fossero dei washi tape e appunto utilizzarle come se fossero dei washi qui diciamo c'è una carta riassuntiva di tutte le fantasie che ci sono più o meno anzi non sono proprio tutte e tutte questa in realtà l'ho cambiata con mia sorella perché lei aveva di questa scatoletta le era arrivata tutte le fantasie sui colori pastello rosa e invece io avevo tutti i colori un po' più sgargianti allora qualcuno ce la siamo scambiata questo qui che trovate su ebay poi se trovo i link ve li metto nell'info box questo lucky bird che è carinissimo c'è i post-it rosa può bianchi col gattino il panda e poi tutti questi segnali qui poi questo che però vi dicevo anche questo ve l'ho già fatto vedere in altri video e vi dicevo già lì che un po' mi ero pentita di averlo preso perché voglio dire essendo in bianco e nero sono tutte cose che in realtà si trovano anche su internet e si possono stampare sono tutte delle etichettine per soprattutto tema compleanno o per scrivere casomai dei nomi per mettere delle targhette sono carini comunque poi questo è sempre qualcosa che ho ritagliato io nei vari giornali e quant'altro e questi sono altri adesivi che hanno vedete la loro cartellina infatti io poi ho inserito anche altre cose sempre ritagliate da me stampate da me che conservo qua per non far rovinare però gli adesivi veri e propri sono questi qui e questi sono lucidi sono lucidi e un po' trasparentini e sono tutti su questi temi qui e poi ci sono anche propri disegnini eccoli qua con queste bimbe e poi ci sono vabbè varie scritte cinesi che io ogni tanto attacco così a caso e poi ci sono tutte le cose da mangiare i bambini così questo pure è carino con il meteo che poi alcuni mi predisprace utilizzarli e poi queste questa pagina praticamente non ho staccato niente perché in realtà questi qua con tutti questi segnali non è che mi entusiasmino più di tanto poi una cosa stupenda è questa che ho preso su ebay sempre perché io da aliexpress non compro perché non posso pagare coppe e pole e quindi non mi piace e ho trovato questo però in realtà io non potevo non potevo scegliere il tema del post-it quindi ho incrociato le dite e ho sperato che mi arrivasse totoro e infatti mi è arrivato ed è questo fatto così che si apre ve l'ho anche messo su instagram e vedete che carino qua ha i post-it grandi dove potete scrivere qua ci sono i vari segnalibri con tutti i disegnini questo è sempre un post-it questi che poi hanno anche una buona colla questi qua perché vedete per metà sono colla e questi più piccolini e poi questo qua rosa carinissimo e poi si richiude così e diventa molto compatto carino l'unica cosa è che si era un po' rovinato qui nel viaggio poi questi sono delle graffette a forma di baffo pagate un euro tipo da tiger poi qui che è una scatola di o di tisane o questi altri ho tutti questi segnalibri qui con gli animaletti questo mi si è pure strappato questi a tema viaggio con la macchietta fotografica il franco bollo la valigia questi sono molto carini e poi questo kit di tiger che però non è niente di che poi questi mi sono arrivati stamattina questi tre uno è questo carinissimo perché come quell'altro rosa è fatto proprio vedete a cartellina e dentro ai suoi adesivi che sono questi l'unica cosa è che sono tagliati non so se si vede a forma di cuoricino di fiocchetto cerchietto di cerchietti e molti cioè molto spazio diciamo è tagliato quindi in realtà molti disegnini molte decorazioni secondo me vanno anche perse perché vedete vabbè in qualche modo si potrebbero anche recuperare e poi questi di ogni pagina no di alcune pagine ce ne sono due e di altre invece ce n'è una sola e sono tutti più o meno così con gli stessi colori pastellosi i puoi le strisce i fiorellini questo è bellissimo tutto così e questi appunto ancora non li uso perché mi è arrivato stamattina l'unica cosa è che puzzano di cinese però c'è pure gli altri alla fine quando mi sono arrivati avevano questo odore plastico sono un poco tossico però dopo qualche tempo che stanno aperti comunque si leva poi questi che sono pure carinissimi e questi sempre se trovo i link ve li metto giù nell'info box sono tenuti insieme a questa targhettina carinissima con la torre Eiffel e i temi sono simili a quegli altri anche qui vedete sono intagliati questi con i segnalibri questi sono striscioline proprio a washi tape e di questi ce ne sono due avete anche di questo ce ne sono due fatti così un po' autunnali con le bici che carini si mette a fuoco bene va bene poi quest'altro questo è singolo sembrerebbe con tutti questi adesivi qui sempre un po' con i temi dei fiori colori pastello di questo buricini sono due così e ok questo qua è un altro blocchettino e poi l'ultimo sembra che mi è arrivato stamattina come vi dicevo di questo si vedono anche dietro i vari i vari fogli adesivi e questi invece sono tutti così quadrati che sembrano tipo la trauma di una stoffa tipo tovagliette molto primaverili anche questi qui questi sono tagliati vedete si staccano così e questi sono tondi sono tondi vedete a cerchietto hanno sia il cerchio dentro e poi diciamo l'anello intorno e questi di sempre a washi tape un po' vintage e poi questi due che sono uguali credo che sia uguali anche a questo sì di questo ce ne sono tre tre uguali e poi ci sono questi poi l'altro giorno vi ho fatto vedere anche nella video what's in my bag ho trovato questi mega washi tape sbrilluccicosi a 1,50 euro ho preso questo e questo colore qui c'erano anche altri colori tra cui dorato poi c'erano altri con i cuoricini ma non mi entusiasmavano più di tanto in questa scatoletta a cuore ho il la mia foratrice a forma di cuoricino i washi tape questi qua che sono un po' più grandi che sono di stoffa qua ho messo lo scotch perché se no mi si apre e poi succede un casino quest'altro che però non è un washi tape è uno scotch colorato e poi questi altri piccolini di carta poi rimanendo in tema washi tape ho questi che ho messo in questa scatola che praticamente è una scatola di biscotti bene vabbè allora praticamente questi con i cuoricini ne sono tre perché avevo preso un set di ebay a tipo me ne venivano dieci non so se con un euro due euro le stelline i i dolcetti altri cuoricini questi sono in carta e non ho preso in quel set anche questi non li ho presi in quel set lì e le ho presi in una cartolibreria e venivano tutti e tre insieme in una scatoletta poi ci sono queste con le paperelle questo che però non mi piace questi due un po' così e poi questo carino e quindi lo si stiamati qua dentro in modo tale che nel tiretto non viaggiano a tutte le parti poi questi sono dei segnalibri di tiger di cui ce ne manca uno era nero e sono quelli calamitati che vi ho fatto già vedere altre volte e poi questi qua della lidl che venivano un po' di tempo fa io questa fantasia fatta così e questi sono molto buoni cioè pagati un euro e però sono davvero di qualità questo che cos'è vedete questi che carini qui ho preso tutto termifloreali rosa questo con piedi tulle carinissimo il pizzo questi stupendi l'unica cosa che bianco sul bianco sul foglio perdono un po' questi qui e questi pure mi piacciono tantissimo vi dicevo che costano poco sono costati poco hanno una buona qualità l'unica cosa è che c'è poco il washi tape intorno al cartoncino poi ho anche questi in questa scatola qui che però sono tutti quelli non ve li caccio però sono tutti quelli che sempre della Lidl vendeva sotto Natale quindi sono tutti natalizi altri adesivi che mi piacciono tanto sono questi qua che vengono dentro questo cartoncino e qua vedete ci sta diciamo il riassunto di tutte le carte che ne sono o 12 o 14 14 fatti così carini questo è bellissimo con la giostra e i cavallucci che quasi mi dispiace utilizzarlo poi sono tutti molto sul tema di viaggi eccolo qua guardate carino questi sono appunto simili washi tape in realtà vanno così questi con la bimba che fa le pulizie tutti il maialino le converse di questo ce ne dovrebbero stare due queste con tutte le scritte i gattini qua c'è quella giostra di prima in piccolo ecco la seconda pagina di quello vi dicevo ce ne erano due carino washi tape questi ce ne sono due però non sono granché cioè su tipo cartoncino cioè danno l'effetto cartoncino diciamo così questi questi qua sono carinissimi questo effetto rovinato non è veramente rovinato qui tipo vintage pure questo con i piocchetti anche se questi piocchetti sì certi mi piacciono certi meno questi sono carinissimi invece questi washi tape qua è sempre il tema viaggio alcuni li ho usati qui e questo e poi ultima cosa questi stampini di tiger che ho preso tipo a 3 euro e vengono con l'inchiostro e poi tutti questi animaletti autunnali invernali diciamo così quindi questo è il casino che ho sul mio letto tutte le cose che vi ho fatto vedere spero che il video vi sia piaciuto se così fosse lasciatemi un like e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao